All'uno e mezzo il direttore Marotta chiedeva guarda c'è un problema grosso perché che problema c'è? Ti hanno trovato positivo la coi? La coi? Io? Che fa la vita è cambiata da così a così per tutti. Se sei un amico e che ti dici bravo sei una testa di cazzo. Ma che rammari chi hai? Se te ti avevi una testa di del Piero tu potevi essere molto 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 di più. Dopo 12 anni Francesco torni a giocare a calcio. In aria la rovesciata di Neoflaki, gol! Ho contato il Ciafla? Da 50 anni. Sa andare il bicicletta. Anch'io so andare. Basta. Flaki, Francesco ha tolto, grazie. Quello ha passato nulla, ha passato nessuno. Ho perso tutto quello di quello che avevo. Ma so che prima o poi lo ripiglio.